... ... ... ... ... Vediamo questi? ... ... prendiamo 4? 4 misti? quale vuoi ma è? questo? perfetta Giuseppe, c'è un sacchettino non sa come se li dà, se li dà in mano se li dà in mano? prendiamo 4 così? si ma non c'è sacchettini squaglia prendono delle monete 40? e tanto? no quant'è?